Cominciamo da un positivo zero. C'è un po' che è importante e che ha già avuto per il passaggio di grande successo. E per il nostro lavoro, noi cerchiamo di essere a la fronte. Quando ho detto di andare a zero, non di andare a zero, ma di una forma negativa, ma di una forma positiva.